Che cos'è e come funziona un'impresa culturale creativa? Che cosa contraddistingue questo nuovo tipo di realtà imprenditoriale? Lo scopriremo grazie alla testimonianza di Marco Arrigoni e Stefano Bonezzi, che con la loro impresa culturale e creativa MAST portano avanti numerosi progetti sul territorio del goriziano. E non solo. A seguire l'intervista del presidente di Confartigianato Gorizia, Ariano Medeot, che direttamente dalla sede della sezione locale dell'associazione ha testimoniato il perché importante sostenere le iniziative di un'impresa culturale e creativa come la MAST. Mi trovo con Stefano e Marco della MAST, un'impresa culturale creativa. Stefano, raccontaci un po'. MAST è un'impresa che fa della sua peculiarità il fatto che è culturale e creativa. Ma cos'è e con quale spirito approcciata questa iniziativa? Noi siamo nati come collaborazione all'interno di un'associazione e questo già un po' spiega quella che poi è l'evoluzione in un'impresa, che è un'impresa culturale e creativa. Oggi come oggi spesso le associazioni si trasformano in impresa e specificatamente in impresa culturale e creativa. Noi abbiamo iniziato la nostra collaborazione con dei servizi sul territorio, abbiamo fatto delle parti di editoria, dei corsi legati ai dialetti della zona di qua, del Friuli Venezia Giulia, e quindi è nato tutto un po' da una collaborazione di volontariato, diciamo così. A un certo momento abbiamo detto, beh, ci troviamo bene nella nostra attività, perché non costituire un'impresa culturale e creativa, che fra l'altro in questo momento è anche abbastanza attuale come tipo di impresa. E all'inizio di quest'anno, cioè all'inizio del 2017, abbiamo costituita questa società, la MAST SRL, che è un'impresa culturale e creativa e società benefit. Marco, la vostra è una storia di innovazione, ma quali sono quindi le porte e le possibilità che si aprono fondando un'impresa di questo tipo? Noi quando abbiamo deciso di costituire questa nuova società, abbiamo fatto un percorso di qualche mese, prima di decidere cosa e come aprire e che strumento utilizzare. Infatti lo strumento MAST è uno strumento innovativo nel suo formamento, cioè nella costituzione della società rappresenta tutta una serie di cose, di aspetti innovativi, perché sì è una SRL, cioè una società di capitali, però è una società start-up, ha vocazione sociale, e le attività sono prevalentemente quelle di organizzazione e gestione di eventi, turismo sociale e poi anche nella gestione del patrimonio culturale. So che avete comunque anche creato un evento molto importante all'Anibal Village. Marco, vuoi parlarmi in un attimo? Siamo molto contenti di essere stati contattati e chiamati dallo storico Marina Anibal, principalmente dallo Yacht Club, i quali ci hanno coinvolto in questa avventura, che per me Stefano è stata proprio un'avventura, perché costituita la società siamo partiti subito con questo evento, dove ha visto la progettazione e la realizzazione di un villaggio con una serie di manifestazioni e di spettacolo serali per intrattenere gli 800 velisti che hanno partecipato al campionato italiano dal 20 al 24 di giugno. Quindi siamo molto contenti, è andato tutto bene e veramente soddisfatti. Una delle cose principali che vorremmo conoscere è quali sono gli eventi che come Mast avete creato e soprattutto se avete già un'idea di quello che sarà il futuro. C'è stato un po' un mix appunto, da quando eravamo all'interno dell'associazione a poi all'attività vera e propria della Mast siamo partiti con delle proposte, come dicevo prima, editoriali, abbiamo fatto un libro che è Bisiacca e Fornelli, che è un libro che praticamente ci sono all'interno raccontate tutte le ricette fatte proprio da gente del territorio e pian piano abbiamo sviluppato altre situazioni, fra le quali c'è De Gusto, che è una manifestazione, un evento che organizziamo per adesso una volta all'anno a Ronchi, all'interno di una tenuta, che è la tenuta di Blasic, e in questo tipo di evento qua raccogliamo, è una sorta di contenitore dove raccogliamo tutta una serie di microproduzioni del territorio e per noi è molto importante, anche per il tipo di impresa che abbiamo, mantenere un'identità precisa sul territorio, perciò non spaziare all'estero piuttosto che nel resto dell'Italia, ma in questo momento vogliamo promuovere tutte quelle che sono le microproduzioni agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. All'interno di De Gusto, questo è il secondo anno, il primo anno l'abbiamo fatto appunto come associazione, il secondo anno come Mast abbiamo organizzato questo evento, dove all'interno si copre tutta la filiera, perciò si parla di workshop legati, diciamo ad esempio, alla farina piuttosto che a altri prodotti, per poi arrivare a vedere sulla bancarella il pane esposto che viene proposto alla gente, fatto tutto da produttori, qua specificatamente proprio del territorio. Mi trovo con il presidente di Confartigianato Gorizia, Ariano Medeot. In conclusione di questa intervista sulla Mast e sull'impresa culturale creativa, per Confartigianato Gorizia cosa significa sostenere questa iniziativa? Sostenere Mast è un percorso che l'aggiunta di Confartigianato Gorizia si è data fin dall'inizio, quando si è insediata in questo ultimo mandato, quindi circa un anno e mezzo fa. Quindi vicino alle società tradizionali, quindi noi sosteniamo valori e conoscenza del territorio, ma soprattutto alla grande conoscenza umana dei nostri artigiani, c'è un'evoluzione di questi tempi, di una tecnologia che si evolve e quindi anche start-up come Mast e SRL significa per noi accompagnarli un panorama innovativo di comunicazione e di poter mantenere molto vivo sul territorio il nostro patrimonio culturale. Quindi valorizzare questo tipo di imprese come è possibile e qual è la vostra idea? L'idea è proprio di sostenere, e anche le istituzioni vanno in questo senso, quello che una volta erano le associazioni. Oggi i confini si sono aperti, c'è una possibilità anche giuridica di poter riconoscere, e noi siamo a fianco per valorizzare. Quindi innovazione, creatività, cose che sono intrinseche nella persona e nei valori umani, ecco qui la persona che viene valorizzata. Ha maggior ragione, anche la regione Fluenzia Giulia ha fatto il primo bando Ports Fair, dove mette a disposizione risorse economiche a fianco di queste aziende per poter valorizzare progetti, idee e innovazione culturale e ambientale del territorio. Cosa ne pensi di questa intervista? Hai mai sentito parlare di impresa culturale creativa o c'è qualche esempio del tuo territorio che ti andrebbe di condividere? Scrivi un commento per farmi sapere qual è la tua opinione. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, metti un bel mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici. Prima di salutarci, ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube per essere sempre aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo, sempre su questo canale, con un nuovo video. Un caro saluto, a presto! Ciao!